Guardo i genitori del ragazzo italiano affacciarsi, illusi e delusi, avvolti nel gomitolo della loro speranza, ad ogni anniversario, ad ogni incontro politico con gli egiziani, ad ogni nuovo annuncio di contratto miliardario, ora è la volta delle navi da guerra. Nella bugia si ripete, si allunga, non faremo sconti, vogliono la verità, già la verità. Almeno quattro governi si sono occupati del caso Regeni. Tutti hanno ugualmente mentito, mentito con la monotonia che è la cifra della miseria dei bugiardi, perché tutti hanno proclamato davanti a quelle due figure dolenti e indifese, che non avevano dimenticato, stavano cercando senza sosta la verità. Facevano la ronda agli egiziani, perseveravano con pazienza, volevano scovarla la verità, farli confessare. Torna il conto? Non torna. Solo una somma di dilatorie furbizie. Bisogna dirlo, nessuno di costoro ha mai cercato la verità, che peraltro diceva di conoscere, ovvero il delitto di Stato, perché nessuno dal primo giorno ha fatto l'unica cosa che si doveva fare, se la giustizia e la morale hanno ancora un senso, ovvero rompere le relazioni diplomatiche con gli assassini e i bugiardi del Cairo e portare davanti alla giustizia internazionale non solo lo sbirrume che ha ucciso materialmente il ragazzo, ma coloro che ne sono ugualmente responsabili. Il presidente padrone, il ministro degli interni, il capo di Mucabarat funebri assassini di regime. Perché questo è il diritto internazionale. Lo Stato ha colpa per le turpitudini di coloro che agiscono comunque in suo nome. Il resto è ridicola farsa. Le richieste di inchieste furibonde, l'invio di magistrati che piattivano collaborazione, gli incontri tra diplomatici e ministri, le vacanze grottesche dell'ambasciatore. Non si poteva fare questo. Bisognava chiamare i genitori e dir loro rassegnatevi. L'Egitto è troppo grande e importante per noi. Le conseguenze della rottura diplomatica sarebbero insopportabili per un piccolo paese come il nostro, che ha bisogno dei miliardi delle forniture militari, dei contratti petroliferi, della lotta al terrorismo. Rassegnatevi. Domenico Quirico, le bugie dello Stato su Reggeni, la stampa, 10 giugno 2020. Stop armi Egitto. La stampa, 11 giugno 2020. L'Egitto la stampa, 11 giugno 2020. Tutto la stampa, 12 giugno 2020.